In forma statistica, dato il numero di editori che lavorano nella nostra città, per il fatto che i maggiori protagonisti della filiera produttiva del libro risiedono vivono e lavorano a Milano, lo è anche in termini percentuali per quanto riguarda la presenza di lettori, che naturalmente nella nostra città sono una presenza molto cospicua e massiccia. E quindi rappresenta, come si può dire, la piena identificazione della città di Milano come la capitale dell'editoria. Dopodiché credo che una cosa molto importante sarà l'ampio coinvolgimento della città che sarà realizzato durante i giorni della manifestazione ed anche il più ampio coinvolgimento possibile di tutte le istituzioni. Penso per esempio alle biblioteche cittadine che partecipano al comitato scientifico e parteciperanno alla realizzazione del programma sia dentro la fiera che evidentemente nei momenti serali, diciamo, di fuori salone. E' un'ipotesi di collaborazione con Torino magari nei prossimi anni? L'archiviamo? No, non va archiviato assolutamente. E' un'ipotesi di collaborazione con Torino.